Il 23 luglio 2004 Armstrong decide di farla pagare a Simeoni. Quel giorno al Tour de France va via una fuga di sei corridori, quando il vantaggio dei fuggitivi è di circa un minuto attacca proprio Filippo Simeoni che prova a riportarsi sulla fuga, ma Armstrong piomba sulla sua ruota, vediamo la maglia gialla braccare ferocemente un corridore fuoriclassifica. Simeoni ritorna sui sei fuggitivi davanti, ma con lui c'è anche la maglia gialla e dunque la fuga non può prendere spazio. Armstrong sfotte Simeoni, gli dice bravo, bel numero, e poi va a parlottare con gli altri fuggitivi. Simeoni racconterà poi che uno dei fuggitivi, lo spagnolo García Acosta, in quei momenti gli disse se Armstrong resta qui la nostra fuga è condannata. Lui dice che se ti stacchi e torna in gruppo, si stacca anche lui e ci lascia andare.